Ciao ragazzi, sono Carlo De Lucis e benvenuti a questo nuovo video. Oggi sono a Forte dei Marni per l'inizio del nuovo Supercar Safari. Due giorni che ci porteranno attraverso le strade della Toscana con un gruppo di circa 30 macchine. E un gruppo che merita. Vediamolo insieme. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Come ogni rally che si rispetti, prima fermata obbligatoria un benzinaio. L'unico della zona con una 108 anni, fermata obbligatoria. Divertiamoci. Per questa prima parte di strada salirò su questa stupenda Audi R8 V10 Plus. Stupenda. Una delle ultime rotoprodotte, veramente meravigliosa. Stupenda. Una delle ultime rotoprodotte. Eccoci arrivati al circuito internazionale di Siena, un cartodromo. Il programma prevedeva il pranzo e poi una gara di kart. Ma purtroppo, come potete vedere, sta diluviando. E quindi la gara di kart è stata annullata. Al suo posto, le auto, direttamente, scenderanno in pista per completare un percorso. Su una sorta di gara di regolarità. Speriamo sia divertente e speriamo che smetta presto di piovere. Speriamo sia divertente e speriamo che smetta presto di piovere. Speriamo sia divertente e speriamo che smetta presto di piovere. Speriamo sia divertente e speriamo che smetta presto di piovere. Speriamo sia divertente e speriamo che smetta presto di piovere. Speriamo sia divertente e speriamo che smetta presto di piovere. Speriamo sia divertente e speriamo che smetta presto di piovere. Speriamo sia divertente e speriamo. Speriamo sia divertente e speriamo. Dopo il divertimento in pista, eccoci arrivati all'hotel per questa sera, la Cappuccina, a San Gimignano. Purtroppo il meteo non è stato della nostra parte e ha quindi rovinato un pochettino l'avventura di oggi. Dietro di me ci sono tutte le macchine parcheggiate del Supercar Safari, ma vista la scarsa luce e la pioggia non mi metto certo a mostrarvele ora. Ma vi invito a stare con noi per domani e a vedere il video che caricherò. Io concludo qui quindi questo video, spero vi sia piaciuto comunque. Iscrivetevi al mio canale per non perdere tutti i prossimi video dal Supercar Safari. Ciao ragazzi! Grazie! Grazie! Grazie!